L'altro ieri sera, che era sabato 24 agosto 2019, alle ore 20 e 30 io ho seguito Rai Storia. E' un programma molto bello Rai Storia, è gestito da Paolo Miedi e Paolo Miedi gestisce molto bene questo programma. Ora, siccome io, Serafino Massoni, sono stato professore di filosofia e storia nei licei e poi preside di ruolo nei licei classici scientifici e ho scritto anche tanti romanzi storici e seguo volentieri il programma Rai Storia. Alle ore 20 e 30, gestito da Paolo Miedi e anche per vedere se ci sono delle lacune, ma comunque il programma è fatto molto bene e Paolo Miedi gestisce in maniera meravigliosa. E sabato 24 agosto 2019 l'argomento era Wally Simpson, moglie dell'ex re Edoardo VIII d'Inghilterra. Edoardo VIII si era innamorato di Wally Simpson, l'amava tantanto, tanto, tanto, l'amava. Diventato re la voleva sposare, però quando uno diventa re, diventa re in Inghilterra, diventa anche capo della chiesa anglicana. E il capo della chiesa anglicana non può sposarsi con una donna che è già stata sposata diverse volte, poi ha divorziato e i cui mariti sono ancora in vita. Per cui ci fu un grave conflitto tra re Edoardo VIII, innamorato di Wally Simpson, e il Parlamento Britannico. un gravissimo conflitto, e anche con l'archivescovo di Canterbury, per cui che fece re Edoardo VIII? E abdico a favore di suo fratello, e poi sposò Wally Simpson, e poi sposò e ebbe un notevole appannaggio, e loro insieme poi se ne andarono in giro per il mondo a fare la bella vita. Avevano entrambi delle grosse simpatie per Hitler, e c'è da dire a questo proposito delle simpatie per Hitler, che Wally Simpson era una personalità dominante, dominante, per cui si identificava con Hitler. Al contrario, il marito, Edoardo VIII, ex re d'Inghilterra, ammirava Hitler, proprio perché Edoardo VIII era una personalità debole, per cui era attratto dalla personalità forte di Hitler. A proposito del menage, c'è da dire che il menage, e questo non è stato detto però nel corso della trasmissione di Paolo Medi, il menage fu un menage molto triste, perché era un menage caratterizzato da una donna dominante, dalla moglie, dalla moglie Wally Simpson dominante, e dal marito, ex re Edoardo VIII d'Inghilterra, dominato sottomesso. Era un po' un rapporto satomaso. Poi nel corso del matrimonio, Wally Simpson gli fece passare di tutti i colori al marito sottomesso. E questo non è stato detto, la trasmissione era tanto bella, che sia chiaro, sono state dette tante belle cose, ma non è stato detto che l'ex re Edoardo VIII d'Inghilterra, che aveva vaticato e aveva sposato Wally Simpson, e c'è stato tanto male, c'è stato tanto male, fino alla morte, fino alla morte, perché Wally Simpson lo riempiva di corne, di corne era una dominatrice, era una grande e potente dominatrice. C'è da ricordare che Wally Simpson, da giovane, era stata in Oriente, e in Oriente aveva conosciuto le tecniche, le tecniche erotico-sessuali, e probabilmente tra queste tecniche erotiche sessuali c'erano pure le tecniche sadomaso, e la trasmissione di Paolo Mieli, la storia, è una trasmissione troppo per bene, non si possono dire queste cose. Per cui le dico un po' io che sono Serafino Massoni. Beh, circa quello che io vado affermando, voi potete fare le vostre personali verifiche. E ricordatevi sempre che Serafino Massoni è stato professore di filosofia e storia nei licei, poi è stato preso di ruolo nei licei classici scientifici, e poi ha scritto tutti questi bellissimi libri. Ok, cari amici? A tutti, tanti cari saluti da Serafino Massoni.